La preghiera come atto umano, come manifestazione dell'essere interiore di ciascuno, che si può palesare attraverso molteplici linguaggi, non solo attraverso la parola. Questo è l'argomento al centro della conversazione proposta dal Centro Studi Campostrini di Verona. Un argomento quanto mai urgente in una società in cui i linguaggi si contaminano e si moltiplicano sempre più velocemente. Un tema da affrontare con maggiore profondità anche in vista dell'oramai imminente apertura dell'anno della fede. Ogni essere umano prega, anche la persona che si dichiara non credente prega in qualche modo, perché pregare è come respirare. La creatura, consciamente o inconsciamente, cerca il creatore perché dipende da lui. E allora, all'inizio dell'anno della fede, certo per i cristiani è specialmente importante ricollegarsi a una grande tradizione all'interno della quale poi ci sono diversi linguaggi, diversi modi di pregare, diverse modalità per esprimere questo istinto spontaneo che ognuno deve sviluppare secondo le proprie possibilità e i propri desideri. Pregare come un impulso naturale presente nell'intimo di ciascuno. Affrontare questo argomento diviene quanto mai urgente nella nostra epoca, in cui la preghiera è in crisi, ma in cui le tecnologie ci offrono media sempre più sofisticati, così come ha ribadito il professor Vigano nel suo intervento. Quindi in qualche modo credo che è un momento in cui la cultura contemporanea possa interrogarsi su questo atto di preghiera, che poi va determinato in maniera molto specifica, cioè la preghiera cristiana, perché non basta un sentimento religioso o comunque un sentire qualche cosa. Oggi purtroppo c'è molta confusione in questa cosa, invece la preghiera per esempio ha una regola, noi diciamo ma la preghiera è cosa del cuore, non la regola, perché abbiamo regole per tutto, perché quando parliamo di preghiera non ci devono essere regole, eppure c'è una preghiera che ha delle regole precise, c'è una preghiera di supplico, una preghiera di discernimento e quindi in qualche modo credo che dobbiamo riappropriarci di questo, che è il modo proprio per ogni discepolo di entrare in relazione con il padre.